Si è svolto lo scorso 31 gennaio presso Palazzo Fioritto un incontro realizzato dalla neocostituente associazione Video Art che ha presentato un progetto dedicato a chi vuole fare cinema, ovvero il Giardino del Cinema. I presenti, che hanno riempito Palazzo Fioritto durante la serata presentata da Angelo Diana, hanno potuto assistere alla proiezione del film documentario Una Bugatti a Vico del Gargano e alcuni spezzoni di prodotti realizzati da Ferruccio Castronuovo, regista presente in sala e che ha presentato il corso del quale sarà l'insegnante. E con un certo orgoglio che sto qui a cercare di fare una cosa che mi piace tanto e che penso sia interessante da proporre a quanti vogliono avere un bagaglio in più nella loro vita che non riguarda soltanto il cinema in particolare ma che deve essere una crescita culturale. Deve essere una maniera di vivere diversa, capire di più se stessi, capire come siamo e saperci muovere e comportare anche in maniera diversa. L'associazione Video Art, in collaborazione con Agora, Videodroni Sud Production, Prospettive Artistiche e Text Video Production, ha così voluto esprimere la gratitudine nei confronti del regista per essersi messo a disposizione del condividere il proprio sapere. Abbiamo avuto innanzitutto la disponibilità di Ferruccio, abbiamo detto tra virgolette in maniera amichevole sfruttiamolo e abbiamo deciso di interpellarlo per creare questo corso qui a San Nicandro. Cosa si prefigge questa associazione? Si prefigge innanzitutto di riuscire a formare o a caratterizzare delle persone che hanno dei talenti o che vogliono crescere in questo talento nel settore cinematografico. Le adesioni già date dai presenti durante la serata potrebbero far partire il corso già a breve. A rappresentare il comune di San Nicandro Garganico, che ha patrocinato l'evento, l'assessore alla cultura Lorena Di Salvia. Io sono molto emozionata questa sera perché avere un personaggio così illustre qui a San Nicandro Garganico, Palazzo Fioritto e con me assessore mi riempie solo che di gioia. Un uomo di grande esperienza, un uomo di grande cultura, possiamo dire che oggi il mio assessorato viene nobilmente rappresentato.